Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Tragedia domenica mattina a Diano Marina, un commerciante di 50 anni di San Bartolomeo al Maia è morto a seguito di uno scontro tra la sua moto con la quale viaggiava e un'autovettura. Sentiamo i particolari in un servizio. Nonostante il motociclista abbia frenato una decina di metri prima, l'impatto è stato inevitabile e molto violento. La moto ha proseguito da sola mentre il cinquantenne è stato sbalzato contro un'auto in sosta. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo messi in atto dai medici del 118. La moglie della vittima giunta sul luogo dell'incidente è stata accolta da malore e trasportata in ospedale. L'improvvisa e tragica morte di Andrea Dotti ha generato profondo sconcerto e dolore nel golfo dianese a Bordighiera dove l'uomo era molto conosciuto e stimato. Si è tenuto oggi nell'imperiese il primo di una nuova serie di tour del Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni della Liguria. Negli incontri tenuti sia a Diano Marina, Taggia e Dolceacqua sono stati affrontati diversi temi relativi a novità per la fiscalità e le entrate degli enti locali. Un supporto utile soprattutto per i piccoli comuni come ha evidenziato il sindaco d'Imperia Claudio Scaiola. Signor Sindaco, incontro con Anci, l'avete fatto qui a Taggia per discutere di normative, di problemi che riguardano le amministrazioni comunali e anche di opportunità di finanziamenti. Bisogna sempre studiare in buona sostanza, la normativa è complicata e anche con novità diverse. Ma credo che Anci abbia acquisito nel tempo un ruolo importante. Da quando c'è l'elezione diretta dei sindaci, l'Associazione dei Comuni d'Italia ha acquisito una professionalità ed una capacità di interlocuzione con il governo e con le regioni di notevole spessore. Quindi le occasioni di andare a incontrare sul territorio, come abbiamo deciso a livello di comitato di presidenza, i sindaci, gli amministratori locali e anche i dirigenti e i funzionari dei comuni, ha lo scopo di scambiare opinioni e di dare informazioni. Ora, con l'ultima finanziaria e con il mille prologue che è in discussione in questi giorni, in Parlamento, ci sono tante cose che interessano i comuni. Buone opportunità di finanziamenti che si possono richiedere, ma la necessità che i comuni abbiano informazioni e abbiano anche della formazione. Questi incontri che si ripeteranno nel tempo hanno proprio questa funzione. Quindi una buona occasione di confronto. Ecco, vedere tanti sindaci diversi, di comuni di grandezza diversa seduti insieme, anche con dei funzionari vicino, è un po' quel fare comunità che lei ha richiamato più volte, mi pare di capire. Beh, certamente piacevole che oggi qui a Taggia, insieme al sindaco di Imperia, al sindaco di Sanremo, ci siano sindaci dei comuni piccoli, che sono la maggior parte nel nostro territorio. Ma è un modo di fare insieme, di fare squadra, cioè di essere consci del ruolo importante che hanno i comuni per costruire una comunità che ha bisogno di essere ascoltata. I principali argomenti affrontati durante gli incontri di oggi con gli amministratori imperiesi da ANCI hanno riguardato le nuove regole sulle tasse locali e la possibilità di accedere a bandi di finanziamento. Relatore, il direttore di ANCI Liguria, Pierluigi Vinai. Pierluigi Vinai, direttore di ANCI Liguria, è tra i promotori chiaramente anche il relatore di questi ANCI Tour. Tour che non sono gite turistiche, ma potremmo chiamarle veramente gite di istruzione, soprattutto per chi le riceve, queste missioni sul territorio per incontrare amministratori ma anche funzionari. Tra l'altro abbiamo sentito apprezzate perché la normativa è tanta, è vasta, spesso la si conosce poco, è difficile interpretarla, quindi c'è bisogno di aiuto. Noi cerchiamo di fare questo, il nostro lavoro, assistere, dare una mano e cooperare nello stesso tempo con tutti i comuni. La Liguria è stretta e lunga e soprattutto da queste parti ci sono tantissimi piccoli comuni, sono la stragrande maggioranza per cui hanno maggiore bisogno di attenzione. Gliela diamo volentieri, cerchiamo di prepararci, di approfondire gli argomenti, siamo contenti quando troviamo poi soddisfazione in coloro che ci ascoltano. Alle volte mi sembra di essere un po' troppo lungo, un po' troppo pesante, un po' troppo noioso, ma mi rendo conto che gli argomenti sono quelli, non è che parliamo di cose belle, divertenti e piacevoli, ma parliamo di fondo crediti di dubbia esigibilità, di fondo di solidarietà comunale, di argomenti di fiscalità e di finanza locale. Insomma mi rendo conto che non sono divertenti, però questi ci tocca trattare. Devo dire che anche quest'anno c'è un passo avanti nella normativa nazionale. Sono moderatamente contento, bisogna cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, soprattutto se lo confronto con quegli anni in cui ci parlavamo, perché con Imperia TV abbiamo una tradizione di parlarci di questi argomenti, in cui gli argomenti erano soltanto tagli lineari brutali, senza se e senza mai, soprattutto senza ragione e senza ragionevolezza. Adesso non è più così, si è invertita la tendenza, ci sono dei fondi per investimenti, ci sono dei fondi di ristoro per tagli eccessivamente subiti, mancano ancora però tante cose, manca una semplificazione vera in questo Paese. I comuni sono lasciati soli davanti ad un mostro che si chiama burocrazia. dove dieci ministeri diversi gli chiedono molto spesso cose simili, in dieci momenti diversi costringendo magari il solo funzionario che dispone quel piccolo comune a dover perdere ore e ore del proprio lavoro per compilare dei moduli, senza nemmeno peraltro utilizzare tutta la tecnologia che è possibile. Questa è una critica severa che dobbiamo fare allo Stato. L'ospedale di Sanremo dopo cinque anni torna ad avere un posto fisso di polizia. La notizia è stata ufficializzata stamani alla presenza del questore di Imperia Cesare Capocasa, dell'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e del direttore generale dell'Asri Imperiese Marco Damonte Prioli. Signor questore, è importante un presidio di sicurezza e di ascolto? Abbiamo riaperto dopo cinque anni Sanremo proprio per questo tipo di obiettivo, quindi un presidio di sicurezza per chi lavora all'interno, quindi tranquillità e serenità per chi lavora, ma anche un presidio di ascolto qualificato per chi ha bisogno, perché chiaramente attraversa delle criticità all'interno di un contesto ovviamente dove la sofferenza è notevole. Può essere anche un deterrente per le aggressioni al personale medico? Un dispositivo di questo genere, una struttura di questo genere, un riferimento specifico come questo, serve soprattutto a prevenire. Io ringrazio veramente il questore di Imperia perché era un impegno che si era preso a ottobre, quando abbiamo aperto il punto di polizia all'ospedale di Imperia appunto. E devo dire che anche qui si sentiva la mancanza di un luogo che verrà utilizzato per fare le denunce, le segnalazioni in un ambiente protetto, pensiamo alle persone che vengono qui a seguito di lesioni dolose, quindi devono in qualche modo fare delle denunce. Ed è un presidio comunque importante perché dà anche il senso che in questi luoghi l'ordine pubblico deve essere una garanzia per tutti, in particolare per il personale. Purtroppo ci sono queste notizie odiose perché danno il senso della mancanza di civiltà. L'aggressione al nostro personale sanitario è un problema paese. C'è una legge giacente in Parlamento che deve essere votata assolutamente nel più breve tempo possibile per inasprire le pene. Dal canto nostro appunto non possiamo far altro che avere i servizi di vigilanza come abbiamo le guardie giurate e collaborare con le istituzioni come stiamo facendo oggi. Però qui c'è una mancanza di senso civico da parte di alcuni soggetti che deve essere condannato. Al termine di questo evento mi recorrerò a Bordighera anche per incontrare il personale ancora per poco appunto di primo intervento di Bordighera proprio per rappresentare la mia vicinanza per quell'episodio che si è verificato qualche giorno fa. L'importanza che ha anche per l'azienda sanitaria? E' importantissimo purtroppo il fenomeno in particolare delle aggressioni agli operatori sanitari è in crescita a livello nazionale. Stiamo mettendo in atto anche in accordo con Regione Liguria tutti gli interventi normativi e organizzativi per far sì di contenere questo fenomeno. Ma credo che la giornata di oggi sia veramente il punto più importante di questo passaggio ovvero la presenza di un poliziotto fisso all'interno del presidio di Sanremo deve far sì che ci sia questa presenza importante delle forze dell'ordine che oltre all'azione di contenimento di questi fenomeni deve rappresentare anche, come diceva il questore, un punto di vicinanza. E voglio approfittare proprio dell'occasione per ringraziare il questore Capocasa con cui in questi anni stiamo lavorando veramente in modo ottimale dal ripristino del posto di polizia all'ospedale dell'Imperia al ripristino del posto di polizia odierno ai controlli che sono stati fatti in accordo con la Polizia di Stato sul territorio che vogliono aiutare, ripeto, tutti i cittadini, tutte le attività e tutti coloro che si avvicinano all'azienda sanitaria o altri tipi di istituzioni avere una risposta uniforme e in tanti momenti un aiuto rispetto a una repressione. Soddisfazione per l'apertura del posto di polizia dell'ospedale di Sanremo è stata espressa dall'Ordine dei Medici di Imperia. La riapertura arriva infatti dopo una recente aggressione a personale sanitario avvenuta a Bordighera. Vediamo. L'Ordine dei Medici della provincia di Imperia da anni chiedeva la riapertura di un posto di polizia nell'ospedale di Sanremo. Da anni noi ci battiamo perché negli ospedali della provincia venga riattivato il posto di polizia come già era in passato. Questo proprio alla luce anche delle continue aggressioni ed è recente, di pochi giorni fa, ancora un'aggressione a un collega del pronto soccorso di Bordighera, proprio al fine di cercare di tamponare in qualche maniera quello che è ormai una violenza che in tutta Italia purtroppo colpisce gli operatori sanitari, quindi anche gli infermieri. Il fatto che ci sia un agente di polizia già presente per gran parte della mattinata, mi pare mi abbiano detto fino alle due del pomeriggio, è una cosa positiva. Certo sta all'amministrazione, all'azienda sanitaria provvedere anche a un sistema di vigilanza pomeridiana e notturna proprio a favorire e comunque a cercare di, in qualche maniera, di ostacolare la violenza sugli operatori sanitari. Violenza che, come voi sapete, a livello nazionale è ormai veramente una tragedia, oserei dire, perché non passa giorno. C'è una media di 1,5 aggressioni a personale medico in Italia, 1.200 sono censite come dati dell'INAIL e circa il 38% della popolazione medica infermieristica non dichiara l'avvenuta aggressione. Questo per motivi, direi, un po' di timore, ma soprattutto per il fatto che è venuta meno quella, come posso dire, quella rispetto, l'autorispetto del medico, proprio dire autorispetto. Cioè nel fatto che dice, beh, purtroppo noi siamo in prima linea e ormai siamo alla merce di tutti. Questo anche, e ci tengo a precisarlo, anche non solo a livello di pronto soccorso, a livello di guardia medica di 118, abbiamo avuto casi in passato anche nella nostra provincia, a livello dei servizi di psichiatria dove è alto il numero delle aggressioni rispetto a quello che può essere a livello, diciamo, o di pronto soccorso di attività ambulatoriale. Quindi veramente come ordine le nostre insistenze, la nostra fatica riconosciamo che oggi finalmente è riconosciuta anche per l'ospedale di Sanremo e ovviamente ci auguriamo che questo possa servire a essere un pochettino più sicuri. Voi sapete benissimo che oggi c'è una facilità da parte del cittadino ad aggredire in generale le persone, soprattutto in ambito scolastico, ma soprattutto in ambito medico. Perché? Perché non c'è più la cultura, il rispetto delle professioni. Il nuocere a un operatore sanitario, quindi a un medico, a un infermiere, eccetera, comunque è contro a quello che è la, diciamo, come posso dire, la salute del cittadino. Perché se io a un certo punto vengo colpito, vengo in qualche maniera, come dire, azzerato nelle mie capacità professionali, ovviamente faccio del danno anche al cittadino. La settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana ha visto la vittoria di Diodato con Fai Rumore, secondo gradino del podio per Francesco Gabbani con Viceversa e terzi i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Ascoltiamo i loro commenti e raccolti ormai a notte fonda in sala stampa. Noi quando siamo partiti da Bergamo ci siamo detti dalla ventesima alla quindicesima posizione è un grande risultato e quindi vi lascio immaginare quanto ci aspettassimo di arrivare poi alla fine e effettivamente al terzo posto sul podio. Comunque siamo un po' Ringo Starr, cioè la filosofia della canzone... L'abbiamo rispettata anche stavolta. L'abbiamo rispettata. Precisa. E' strano perché è un pubblico nuovo, quello di Sanremo, come ben sapete, che in larga parte magari anche non ci conosceva, eppure ci ha dato tanto. Quindi grazie veramente e siamo contentissimi, non so che dire, grazie. Io sono veramente, veramente, veramente soddisfatto e contento di questo secondo posto anche perché, grazie dell'applauso, anche perché l'ho già dichiarato nei giorni precedenti il mio festival, me lo sono già vinto dal punto di vista personale perché era un po' un esperimento per me tornare al festival con una canzone come Viceversa che ovviamente ha dei crismi diversi da quelli, ve l'ho già detto, da quelli dell'Occidentali Scarma che mi ha visto vincitore e sono rimasto estremamente meravigliato e in positivo di tutta la risposta che c'è stata da parte del pubblico perché a dati alla mano comunque sono, insomma, mi sembra di... ora non mi ricordo, dovrebbe dirmelo al mio staff, però insomma sono... c'è una grande risposta anche a livello numerico, cioè per quanto riguarda le classifiche, charts e quant'altro. Mi vede i primi post, tante visualizzazioni con i videoclip, quindi io sono veramente soddisfatto di questo aspetto. e considerato il fatto che so cosa vuol dire provare a disporsi al festival di Sanremo portando la propria musica, e lo dico da un autore questa cosa, da chi si fa e si canta le canzoni. Io prima parlavo con Diodato sinceramente e non voglio passare da buonista, sono veramente contento che lui abbia raggiunto questo risultato perché è un artista che si merita di avere in questo momento questo tipo di posizione perché è un artista vero, un artista che scrive le canzoni e canta con l'anima aperta, e quindi sono qua a fare un applauso a Diodato. Ale, grazie. Vincitore della settantesima edizione del festival di Sanremo, un applauso. Grazie, grazie mille, grazie. Che effetto fa? Sinceramente ci sto capendo veramente poco, voglio essere sincero, è una sensazione stranissima perché il festival è fatto anche di attese lunghissime, devo dire ti carichi di un'emotività che non sei in grado di gestire. Sono sconvolto perché sin dal primo giorno di questo festival mi sono sentito comunque accolto con un calore che non mi aspettavo. ricevere tutti questi premi è una cosa molto inaspettata, che mi riempie di gioia, ma soprattutto mi rende felice anche per tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni. parto già dagli inizi e che hanno fatto con me un passetto alla volta, e poi la mia casa discografica, tutta questa famiglia che si è creata intorno a me, e che è una famiglia veramente piena d'amore, che oggi sta godendo con me, sono veramente felice di poter condividere con loro questi premi. Il festival appena concluso è stato anche l'occasione per mostrare al mondo l'immagine di una Liguria che ha saputo reagire alle avvestità ed è pronta ad accogliere i turisti. L'ha evidenziato ai nostri microfoni l'assessore regionale Giacomo Giampedrone. Anche l'assessore Giacomo Giampedrone qui a Sanremo, finalmente un'occasione di allegria, di musica, da forfalline non da scarponi per andare per cantieri potremmo dire, ma è il momento di rivendicare quello che si è fatto, di guardare al futuro e dire che la Liguria ha il suo orgoglio. Direi che per una sera la camicia possiamo anche mettercela, è giusto essere presenti oggi per la vetrina internazionale che Sanremo ricopre in questo periodo, è giusto anche rivendicare tutto il lavoro che abbiamo fatto e soprattutto non dimenticarsi di nessuno. Ancora ieri abbiamo in giunta varato 2 milioni di euro per dare risposte ai comuni più piccoli, alle strade dissestate, quindi siamo in una serata di festa, di grande centralità della nostra regione senza dimenticarsi del lavoro che facciamo quotidianamente e ininterrottamente da 4 anni e mezzo. Ma anche per chi è giunto il momento di dire che la Liguria c'è, che la Liguria non è soltanto guai per l'alluvione o ponti che cadono, sono anche ponti che si ricostruiscono, territori meravigliosi. Sono meravigliosi, sono fragili, ma Liguria è questa, è uno splendore infinito, ovviamente piena anche di difficoltà purtroppo che abbiamo affrontato nel tempo. Io credo anche una Liguria che ha saputo rialzarsi, diciamo anche questo, perché evidentemente rispetto a quante ne abbiamo patite negli ultimi anni, essere qua presenti con la fierezza del lavoro fatto e soprattutto avendo la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, ci riempie di orgoglio e godiamoci queste serate di festa e credo che la Liguria se lo meriti, ce lo meritiamo un po' anche noi. Per il primo anno anche il Corecom Liguria, Comitato regionale di controllo sulle comunicazioni, ha voluto essere presente al festival. Le iniziative promosse ci sono state illustrate dal presidente del Corecom Vinicio Tofi. Vinicio Tofi, il presidente di Corecom Liguria, Sanremo Festival è mondo della comunicazione, non potevate mancare. Siete venuti qui anche per invitare a riflettere sul discorso cyberbullismo, siete venuti un po' per incontrare il mondo della comunicazione e dialogare. Sì, abbiamo pensato di avvicinarci ai giovani e abbiamo lanciato questa iniziativa Giovani Web e Musica, praticamente proprio per essere vicini a questa parte di società che spesso ha altri contatti, altri modi di comunicare. Noi vogliamo essergli vicini come? Tramite la musica per capire meglio come usare il web e aiutarli a non cadere nei problemi, nei tranelli che questo può riservare. Abbiamo fatto un convegno su questo, abbiamo parlato con le scuole e abbiamo cercato di individuare un decalogo di istruzioni per l'uso, come usare correttamente il web e non avere brutte sorprese. Per questo, sempre in collegamento con l'ambiente della musica, diamo un premio, il premio Corecom, all'artista del festival che si è distinto per la maggiore sensibilità al problema del cyberbullismo. Da Genova a Sanremo per fare fronte comune e promuovere il territorio Ligure e le sue imprese. Questa è la missione anche della Camera di Commercio di Genova rappresentata dal direttore generale Maurizio Caviglia. Maurizio Caviglia, il segretario generale della Camera di Commercio di Genova. Beh, anche Genova si sposta inevitabilmente qui a Sanremo per il festival, ma qui è un'occasione di parlare di Liguria, di impresa, di territorio, insomma di lanciare il territorio Ligure attraverso Sanremo. Ma diciamo che insieme alla Camera di Commercio delle Riviere abbiamo deciso di poter presentare nel modo migliore l'intera Liguria all'interno di questo stand, di questo padiglione. E voi vedete che ci sono non solo 200 persone attese, ma soprattutto quelle che sono le eccellenze della nostra terra e della nostra meravigliosa Liguria. Eccellenze, prodotti, imprese, territorio, il mix che serve per il turismo. Sì, perché oggi le persone che fanno delle scelte rispetto alle caratteristiche le fanno anche pensando a qual è l'enogastronomia di quel territorio e quindi sempre più forte è questo legame, cultura, enogastronomia e territorio per avere un grande turismo di qualità e di eccellenza. Il presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, ha evidenziato l'importanza della sinergia tra i territori della Liguria per guardare al futuro con ottimismo. Olivieri ai nostri microfoni ha commentato con favore anche le iniziative promozionali attuate nel corso del Festival di Sanremo. Con noi il presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, perché Sanremo è grande vetrina, Sanremo è occasione di dialogo, ma anche occasione di rivendicare. Noi ci siamo, guardiamo avanti anche la provincia di Savona. Ha avuto i suoi problemi ma vuole guardare con forza al futuro. Perfetto, ha già fatto una sintesi di quello che ha il significato della presenza istituzionale con piacere e convinzione. Il nostro territorio ferme le proprie individualità, ferme le proprie caratteristiche. Io sono anche sindaco di un piccolo paese e in quanto tale presidente della provincia, ma assolutamente dobbiamo ragionare come regione, come territorio, come comprensorio Ligure. Ed è veramente un'occasione, dopo un periodo complesso, l'autunno scorso ha flagellato veramente in una maniera incomprensibile, impensabile, tutto il territorio savonese. Se pensiamo che abbiamo dovuto aprire 60 cantieri in sommergenza sulla sola viabilità savonese, dunque trovarsi oggi in un momento di festa positiva, in cui possiamo essere contenti di fare un bilancio, in cui il nostro territorio, le comunità, le imprese e posso anche dire, senza false modeste, essendone parte, le istituzioni hanno dato dimostrazione che se lavoriamo insieme i risultati per le nostre comunità li possiamo dare, per chi vuole vivere sul nostro territorio. Anche perché, insomma, finite le ricostruzioni bisogna poi dirlo al mondo, perché altrimenti poi qui non venga nessuno. Bisogna far capire che questa Liguria c'è ancora, più bella che mai. Assolutamente, ne parliamo con i nostri rappresentanti di categorie. Siamo pronti ad accogliere nella ormai imminente stagione primaverile e ancora più estiva chi vuole venire come storia, il nostro grande valore, proprio del ponente, imperiese, sanremese e savonese, di accoglienza, di turismo, di buon tempo, di quello che si può scegliere per le famiglie, per l'amicizia, per lo stare insieme. Sicuramente è stato un tempo complesso, ma siamo in grado di ritornare all'anonamentale e stiamo facendo la sfida e poi uscire dall'emergenza e ritornare agli investimenti strutturali e alla programmazione. Anche in Peria questa mattina si sono svolte cerimonie per celebrare il giorno del ricordo in memoria dei caduti delle foibe. Dopo la posa di una corona ai caduti, si è tenuto un convegno al Palazzo Provinciale. Vediamo. Celebrazioni a Imperia per il giorno del ricordo in memoria dei martiri italiani delle foibe trucidati dai partigiani comunisti di Tito alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La celebrazione ha visto la deposizione di una corona di alloro in memoria dei martiri nei giardini loro dedicati davanti al Palazzo del Catasto. Sono intervenuti fra gli altri il prefetto della provincia di Imperia e il sindaco del capoluogo Claudio Scaiola. In seguito si è svolto un convegno nella sala consigliare della provincia dedicato al centenario dell'impresa di fiume di Gabriele D'Annunzio dal titolo da fiume italiana all'esodo Giuliano Dalmata. Si illumina il cuore storico di Albenga in festa per celebrare San Valentino con un prestigioso omaggio all'arte e alla cultura culminante con il messaggio di solidarietà a tutte le donne. Nella città delle torri andranno infatti in scena le proiezioni architetturali incentrate sullo sposalizio della Vergine di Raffaello a 500 anni dalla sua morte. Vediamo. Questa iniziativa nasce dal grande risultato che hanno ottenuto queste proiezioni durante le vacanze di Natale. Hanno richiamato ad Albenga in una stagione non particolarmente fortunata per quanto riguarda proprio la viabilità un sacco di visitatori sia da regioni vicine che da comuni vicini. Allora abbiamo pensato di, ovviamente cambiando i soggetti e declinandoli col tema dell'amore, di prolungare, di riaccendere queste bellissime proiezioni in modo da dare continuità e fare sì che in tutte le stagioni, in tutti i momenti dell'anno Albenga possa diventare attrattiva nei confronti dei nostri ospiti. Le proiezioni sono solo quello che appare in maniera più evidente ma ad accompagnare queste proiezioni ci sono tutta una serie di eventi che hanno come comun denominatore l'amore. La panchina dell'amore che c'è dietro il battistero in questi giorni deve diventare un simbolo di quello che è il vero amore. Non confondiamo l'amore col possesso, con la prevaricazione con tutti quei sentimenti che con l'amore non hanno nulla a che vedere ma che spesso si nascondono dietro una sbagliata definizione di amore. Sono 41 anni che ci conosciamo, amiamo la Liguria, quattro anni fa siamo riusciti a comprarci una casettina qui a Albenga, appena possibile veniamo da Albenga, lavoriamo come si dice ad Alessandria, di conseguenza appena possibile scappiamo qua. Bellissima, bellissima. Albenga è romantica per innamorati, quindi noi siamo innamorati e allora... Centro storico spettacolare, di conseguenza bellissima. Ci siamo conosciuti qua ad Albenga, in questo centro storico, tra i locali di Albenga e niente, tra amici ci siamo conosciuti in una serata. Mi ricordo la compagnia, tutti i nostri amici, festeggiamenti, poi noi abbiamo scherzato tutta la sera, alla fine così è andata insomma. Questa è la panchina dell'amore, realizzata dal CIV e dall'Associazione Tra le Torri, in un luogo caratteristico di Albenga, vicino al Battistero, e rappresenta l'amore in un senso alto del termine, non solo l'amore fra i due fidanzati, ma l'amore verso il prossimo. Anche in questo periodo purtroppo ci sono stati molti casi di violenza sulle donne e quindi noi vogliamo mandare un messaggio anche di amore verso tutte le donne. Ascoltiamo adesso l'angolo di Daniele Lacorte che ci parla di liste d'attesa. C'è una situazione che accomuna il popolo italiano, troppo spesso destinato alle lungaggini della burocrazia, non in grado di venire fuori da situazioni a dir poco assurde. E la lista d'attesa, dove non c'è da attendere, da aspettare? Buona parte delle attività commerciali non hanno installato negli ingressi i distributtori di numeri per mettere la gente in lista d'attesa. Devi andare dal panettiere? Aspetta. Aspetta il tuo turno in base all'ingresso in negozio. Lista d'attesa dal medico di famiglia, quasi sempre ingolfato nelle ore di punta. Lista d'attesa negli ospedali, per sottoporsi a semplici accertamenti clinici. Listi d'attesa per un intervento chirurgico. Siamo tutti destinati ad attenderle. E le liste si allungano per poca organizzazione, per l'intenza incomprensibile. Uno alla volta le liste d'attesa continuano, ma una volta, lo ripetiamo, la famosa lista d'attesa era quella dell'aeroporto, ma solo per chi non aveva prenotato il volo e aspettava e ancora aspettava nella speranza che qualcuno rinunciasse al biglietto prenotato. Ma come abbiamo detto, ci ripetiamo, l'attendere fa parte del vivere. Del vivere? Ora c'è la lista d'attesa anche per chi muore. Volete l'esempio? Eccovi accontentati. A Palermo c'è la lista d'attesa al cimitero e le bare vengono accatastate in un deposito in attesa che salti fuori in qualche modo una tomba. Sono 300 da qualche giorno. casse, bare, accatastate in un vergognoso modo, in un vergognoso deposito. Quanto dovranno attendere? Non ci resta che rimanere in attesa, e giochiamo sulle parole, che la politica diventi cosa seria e risolva i problemi dell'agenda prendendo a calci nel sedere gli imbonitori da strapazzo, quelli che ci vorrebbero tutti in lista d'attesa. È il momento di dare uno sguardo alla situazione Cantieri lungo la A10 e la A6. Tronco a 10, Savona, Ventimiglia, confine di Stato, Direzione Italia, carreggiata a sud tra Borghetto Santo Spirito e Pietraligure, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per rifacimento della pavimentazione dal 10 al 14 febbraio, tra Finale Ligure e Spotorno, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento della Galleria Rocca Carpania dal 10 al 14 febbraio. Direzione Francia, carreggiata a nord tra Spotorno e Finale Ligure, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento della Galleria Rocca Carpania, dal 10 al 14 febbraio. Tronco a 6, Torino-Savona, Direzione Savona, Traceva e Millesimo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 9 aprile, tra Millesimo e Altare, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Tappello Sud fino al 12 marzo, tra Altare e Savona, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Castellaro fino al 29 febbraio, tra Altare e Savona, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata a nord per lavori di rifacimento dell'impalcato viadotto Madonna del Monte fino al 9 aprile. Direzione Torino, Tramillesimo e Ceva, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata a sud per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 9 aprile, tra Savona e Altare, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Madonna del Monte fino al 9 aprile. Il telegiornale termina qui. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Imperia TV. Grazie per essere stati con noi. 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 Grazie per essere stati con noi.